buongiorno amici allora questa è la situazione qua siamo già in un foglio più alto per cui lì scendiamo scenderemo di un metro e mezzo due metri questa poi è la pianta a questo da questo pennello non c'è problema quasi quasi la tocco e va bene però se scendiamo chiaramente ecco cosa abbiamo altissimo quindi qua in basso io un po di ramaglie le ho tenute per cui che dite capitozzare qua che siamo sempre intorno al metro e mezzo perché poi di sotto si scende ancora oppure pulirla soltanto accetto consigli per me la tentazione di capitozzarla è veramente tanta avrei già questa qua che viene per bene l'aspettiamo e me la riesco a gestire bene accetto ecco com'è adesso adesso con lo sbettatoio togliamo un po tutte queste punte alte questo alla fine possa anche lasciarlo intanto lo sbattere di qua va bene andiamo a vedere invece qua ecco toglieremo quel fustone lì che va in su questo che va in su e poi vediamo potatura finita non mi piace fa veramente ribrezzo però quest'anno la teniamo così rifarà tantissimo vegetazione sopra però intanto vediamo cosa ributta dal basso eventualmente ci siamo ottenuti la possibilità per il prossimo anno di tagliare qua portare questo e poi ci sono tutti i rametti questi qua spero vi sia piaciuto il video se c'è qualche potatore esperto accetto consigli e niente ci vediamo al prossimo video seguitemi sul canale perché da adesso in poi partiremo con cioè la primavera è fantastica primavera estate ci saranno orti ci sarà frutta miele api c'è di tutto insomma ci vediamo ciao